ciao a tutti io sono pietro insieme ad andrea matteo e altra gente a caso e oggi andiamo a allenarci di nuovo a parkour si proprio questa andiamo a fare andrea proprio questo terrò tutto andrea terrò tutto il primo spot dove andiamo oggi è la stazione e ci vediamo lì beh sì ovviamente quello sempre tanto moriremo tutti quindi no esatto facendo parkour ciao a tutti 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 ciao a tutti